Quando sarà riaperto il varco che collega l'area della stazione ferroviaria di Capodorlando a quella di Contrada Muscale? Da alcuni giorni la strada di Contrada Muscale nella sua parte finale, cioè in direzione dei binari, è stata parzialmente riaperta, consentendo a tutte le attività commerciali, agli studi medici e alle abitazioni gravitanti su quest'area, nel caso non avessero potuto farlo nei mesi precedenti, di riaprire i loro ingressi principali rendendo oltretutto più fluida la viabilità. Per quanto questo sia avvenuto e per quanto ancora si stia lavorando nella parte alta della strada, probabilmente per raccordare al meglio l'impianto fognario, il cancello che permette l'accesso ai binari, alla stazione e poi anche a piazza stazione è rimasto chiuso. Chi è preposto alla riapertura? Il Comune? RFI? Sappiamo che c'è un'ordinanza del 6 giugno 2023 con la quale si presume sia stato inibito il passaggio. Sul cancello chiuso, dal lato di Contrada Muscale, c'è scritto che rimarrà chiuso fino al termine dei lavori. È pur vero che questi ancora devono essere completati, ma è anche vero che nella parte opposta a quella occupata ancora dal cantiere sono stati tolti tutti gli ostacoli e da giorni auto e pedoni hanno avuto libero accesso. Inutile dire sull'importanza di questo passaggio pedonale, che consente di raggiungere facilmente un'area in cui insistono svariate attività commerciali, piccole, medie e grandi, studi medici e abitazioni, naturale collegamento tra l'area di piazza stazione, in cui oltretutto si può parcheggiare, e l'area di Contrada Muscale, che grazie a questo varco pedonale è possibile accedere in modo celere.